Zotac Vlogs E' un gioco sandbox che riprende un po' le meccaniche di altri giochi di successo, tra i quali Dungeon Keeper, Terraria, Minecraft, Dwarf Fortress, insomma è veramente un capolavoro ragazzi, secondo me questo gioco farà un sacco di strada perché ha veramente tante potenzialità se vi piace il genere. Diventa droga in tempo zero. Allora ragazzi io vado su Choose a Level perché come vedete qui ho già cominciato una campagna e vorrei cominciarne una nuova insieme a voi. Qui ovviamente potete scegliere se fare un livello personalizzato oppure se fare la campagna, io farei campagna. Ecco qua potete scegliere il vostro mondo, anzi all'inizio ce n'è soltanto uno di livello 1 selezionabile che è praticamente piccolo, ha le temperature normale e tutto quanto e più andate avanti più sbloccate le varie possibilità con mondi sempre più grandi e con temperature più difficili e anche le condizioni come vedete climatiche che cambiano e quindi danno maggiore sfida. Cominciamo comunque con questo mondo selezionabile e facciamo start. Ok ragazzi allora siamo stati catapultati in un mondo generato a caso dal computer, all'inizio abbiamo un unico nano che se andiamo qui su Equip possiamo vedere com'è fatto, in questo caso è un mago. E praticamente adesso gli direi di cominciare a fare spazio qui tagliando questi alberi albuscelli e prendendo quindi le risorse che gli possono dare. Ovviamente qui in alto a sinistra abbiamo questo libro che è praticamente un libro delle missioni, ci dice che la prima missione è di tagliare un albero perché il legno è la prima risorsa di cui avremo bisogno, la più importante insomma, la principale. Quindi adesso finisce di tagliarlo e esatto come vedete abbiamo fatto il primo task, ci dice che abbiamo avuto 20 esperienza. Ovviamente ogni volta il libro si riempie di nuove missioni come per esempio adesso abbiamo scava un tunnel perché molti minerali sono nascosti al di sotto del suolo terrestre, ovviamente lo faremo. Ok allora come vedete ogni risorsa che lui prende la porta qui dove c'è questa bandierina che è praticamente il centro da dove comincia tutto. E adesso la prima cosa che vorrei riuscire a fare il più velocemente possibile è riuscire a scavare un rifugio per i nani per la notte perché appunto di notte come in Minecraft arrivano i mostri ad ucciderci tutti. Ok ecco come vedete poi le varie risorse man mano spuntano quando noi le utilizziamo, come vedete quando scaviamo ci sono due livelli e come se fossero in prospettiva sono due blocchi da scavare come se fossero uno più vicino e uno più lontano. Almeno ci danno anche il senso della profondità. Allora qui abbiamo trovato la prima ricetta scavando che è praticamente quella della clava che è praticamente la prima arma primitiva per i nostri nani, fa 6 di damage e questa è la ricetta per crearla. Allora andiamo qui in crafting, almeno vi faccio vedere qui il primo slot è dove abbiamo le varie risorse, qui invece abbiamo le prime costruzioni e qui le armi e infine anche le ricette per il cibo. Allora qui abbiamo la nostra clava che come vedete si fa in questo modo quindi prendiamo due blocchi di legno e li mettiamo come si fa in Minecraft per creare il nostro oggetto. Ok, ok abbiamo anche livellato, siamo a livello 2 e come rewards ci danno praticamente un nano in più, il totem che servirà appunto per creare il nostro rifugio e alla fine anche queste bacche. Ok, grazie, perfetto. Eccolo qua che compare e dovrebbe andare subito infatti ad aiutare l'amico. Lui invece di essere un mago è un minatore, perfetto, ok. Ok, poi approfondiremo anche questo aspetto. Allora andiamo a dare la clava, a questo punto la darei più al minatore che al mago e le la diamo qua così. Abbiamo fatto anche la missione, ci hanno dato ovviamente 20 esperienze. Andiamo a vedere il craft tree che è praticamente un albero di crafting, come vedete qua lo potete trovare ogni volta qui. E' praticamente un susseguirsi di ricette che si sbloccano man mano che voi craftate. Praticamente ragazzi è infinito, è enorme. Se si pensa anche che è un prodotto, questo gioco non è ancora finito, c'è davvero da spaventarsi. Non lo so, non sto neanche qui da farmi vedere tutto perché è enorme. Allora io adesso comincerei comunque a dirgli di scavare un tunnel, così almeno facciamo anche la missione dello scavare appunto il tunnel che vi ho fatto vedere prima nel libricino. E così almeno avanziamo anche con le varie missioni che ci danno esperienza. Allora lui comincia a scavare e vediamo di fare questa missione del tunnel. Ovviamente ragazzi il sottosuolo è esplorabile per trovare tutte le varie risorse e tutto quanto, è molto più esteso della terra al di sopra diciamo. Ok, fatto. Perfetto. Molti minerali appunto sono nascosti al di sotto e quindi l'esplorazione del sottosuolo è importantissima, fondamentale. Qui come vedete ci sono aggiunte tante altre missioni che faremo adesso, anche perché adesso dobbiamo fare le torce perché mi servono per avanzare anche col craft tree. E poi ci servono appunto per fare luce per i nani. Quindi le mettiamo qua e le mettete una qua. Adesso praticamente il primo nano che passa dalla bandierina prende la torcia, eccolo qui, e scende a mettere la nostra torcia. Fatto. Ok, fatta anche la missione, quindi ottimo. Sblocchiamo le scale, il piccone e questo slime torce. Le scale adesso sono importantissime, andremo a farle subito perché altrimenti i nani cominciano a cadere, a scivolare. Con le scale almeno siete sicuri che non cadano. Perché se scivolano appunto si fanno male e dovete poi curarli. Allora, mettiamo subito una scala qua. Poi la torcia di sotto la toglieremo perché l'ho messa un po' a cavolo perché dovevo soltanto fare la missione. Intanto mi tagliate anche questi alberi qua perché ci serve un bel po' di legno. E poi gli dico di... Ah ok, perfetto, sì abbiamo fatto la scala, perfetto. Ok. Quindi abbiamo sbloccato il log bridge che è praticamente una specie di ponticello fatto con i ramoscelli. Quindi qua sotto cominciate a scendere un po' di più anche e così cominciamo a scavare il nostro rifugio. Perché almeno tra poco arriverà la notte quindi dovremo metterli al sicuro. Ok. Benissimo, prendete anche le foglie che ci serviranno. Ottimo, ok. Dividetevi il lavoro così almeno facciamo veloce. Ah ecco, guardate, guardate che stava succedendo. Ecco, è scivolato. Ovviamente era troppo basso quindi non si è fatto tanto male. Però a volte fanno di quei voli che, poverini, si beccano di quelle botte che non... Dobbiamo risparmiargli insomma. Quindi facciamo tante scale, mettiamo il legno così. E almeno facciamo le scalette che le accompagnano nel rifugio. La torcia per il momento la lascio lì. Anzi, la togliamo subito che non va bene qua. Cioè, dà troppo fastidio. Remove Torcia, la rimetteremo qua sotto. Adesso il primo nano che passa dovrebbe toglierla. E mettere la scala. Ottimo. Ok. Perfetto. Perfetto. Così almeno adesso ci mettiamo la scala qua sotto. E la torcia invece la mettiamo più sotto nel rifugio. Adesso appena allarghiamo. Anzi, la mettiamo subito. Mettiamola qua. No, l'altra la metto dopo. E... No, niente scala. Aspetta... No. Togli. Ok. E cominciamo a scavare un po' di più. Così almeno adesso faremo spazio. Perché dovrebbero arrivare a breve nuovi nani. Ok. Aspettiamo che scavino. Ecco ragazzi, io il rifugio lo sto facendo sotto terra. Però nessuno vi nega appunto di cominciare già di farlo sopra il suolo terrestre. Insomma. Però io direi di cominciare dal basso. Così almeno siamo già chiusi all'interno di quattro mura. Uh, abbiamo trovato un libro. Questo è il miner book. Perfetto. Scavando troviamo questi tesori che praticamente sono... Aumentano le capacità dei nani. Quindi in questo caso abbiamo già un miner. Quindi possiamo utilizzarlo su di lui. Facciamo use. Come vedete siamo passati ad un maggior livello di minatore. Quindi scaverà molto più velocemente. Ovviamente questi book o aumentano delle capacità che i nani hanno già oppure gliele insegnano. Nel caso nessuno dei nostri due nani fosse un miner potremmo scegliere di far diventare uno dei due un miner. Oltre alla sua principale professione. Hanno tre professioni da poter imparare diciamo. Ok allora intanto cominciano a... Ecco uno dei problemi nel fare un rifugio sotterraneo è che ogni volta poi devono salire e portare le risorse in alto. Ricordatevi questi alberi perché mi servono... Mi serve il legno. Quindi appena avete finito andate perché mi serve il legno altrimenti non possiamo né fare i letti né altre scale. Ecco poi ve lo farò vedere che potete anche zoomare la visuale così potete avere una visuale un po' più generale su tutto il mondo e anche sul sottosuolo che mi sembra già abbastanza sconfinato in un mondo piccolo come il nostro di partenza. Ok. Vedo che i nani hanno finito di scavare il nostro rifugio iniziale. Stanno portando fuori le ultime zolette di terra che hanno scavato quindi io adesso direi di cominciare a dirgli di portare dentro una torcia. Mettiamola qua così almeno illuminano il nostro rifugio. E poi possiamo piazzare il totem che è quello che praticamente riconosce il posto come un nostro rifugio e quindi praticamente ci protegge. Dobbiamo però prima arrivare a craftare una porta che chiude il passaggio verso l'esterno. Quindi adesso dobbiamo craftarla. Allora come siamo messi? Intanto con il legno perché ho bisogno che mi prendete il legno perché siamo a zero e mi serve troppo. Altrimenti non possiamo avanzare. Bravi cominciate a riprendere il legno che avevo detto prima. Dobbiamo prendere questo qua. Dobbiamo crearlo così almeno ci sblocca le prossime ricette. Vediamo cos'è che vuole. Vuole due pezzi di legno che al momento però non ho. Quindi aspettiamo che tornino indietro con il legno. Perfetto sta anche calando. Siamo al tramonto quindi mi viene un po' d'ansietta perché non siamo assolutamente a cavallo. Quindi vediamo di velocizzarci un po' a cercare di arrivare in tempo. A parte che comunque all'inizio i mostri che arrivano non sono molto forti. Sono abbastanza deboli e ne arrivano anche in pochi però è sempre meglio non rischiare. Allora mettiamo qua il legno che ci hanno portato per fare il ponte. Ponte che lo metto a caso, lo metto qua, soltanto per far dire che l'abbiamo messo. Almeno possiamo avanzare con le varie ricette. Ecco intanto un ragno che si cala addosso dall'albero però l'abbiamo fatto fuori. Ok. Tanto qui diventa sempre più buio. Perfetto. Aspettiamo che tornino indietro con il nostro legno e che posizionino il nostro ponte. Così almeno poi con il ponte possiamo sbloccare le altre ricette che dovrebbero portarci poi alla porta. Ok. Qui abbiamo il letto, il muro di legno che poi ci porta appunto alla porta che dicevo prima. Perfetto. Ottimo. Aspettiamo che lo facciano. Ok. Fatto. Quindi ci ha sbloccato appunto letto e muro. Procediamo subito più velocemente possibile a creare il muro. E lo facciamo mettere a caso da qualche parte. Mettiamo allora uno, due, tre e quattro. Fatto. Tre blocchi di muro. E... Oh ok. Perfetto. Abbiamo anche livellato. Ottimo. Un nano, una torcia e delle radici. Ok. Ottimo. Nano comparso. Intanto però è calata la notte quella vera. Infatti qui possiamo illuminare le cose solo passando con il mouse. Ecco. Qua mi sono dimenticato di farvi vedere questo. Praticamente questo è un negozio. Però comunque lo vedremo un po' più avanti. Qui si possono comprare le varie cose utilizzando i soldi. Ovviamente i soldi che troviamo nel gioco. Allora adesso io dovrei procedere a craftare le cose che mancano per il nostro rifugio. Quindi allora fatemi vedere un attimo. Allora craft. No anzi craft niente. Chiudiamo un attimo. Prima di tutto posizionatemi il muro. Lo mettiamo qui a caso così almeno sblocchiamo la porta. Così almeno possiamo chiudere il rifugio dall'ambiente esterno. Così poi manca solo da mettere il totem e i tre letti. Così almeno abbiamo fatto il nostro rifugio iniziale. Ok. Fatto. Qui. Perfetto. Abbiamo sbloccato il nostro wooden watch. Che è la nostra porta. Andiamo subito a vedere come si fa la posizione. Posizioniamo subito i legni per farlo. Ok. E diciamo subito di crearla. Là. Ok. Adesso andiamo un attimo qui per prendere il nostro totem. Lo metto sotto nella barra. Almeno ce l'abbiamo a portata di mano. E lo posizioniamo. Lo metto qua. Tanto uno dei nostri nani è scivolato. Ok. Ottimo. La porta ce l'abbiamo. Manca solo il totem. E poi. Comunque qui abbiamo anche sbloccato altre cose. Il letto come si fa? Così. Quindi andiamo subito a craftare tre letti. Quindi mettendo due foglie. Il primo letto che possiamo fare ovviamente è un letto fatto con le foglie. Perché è la prima cosa che possiamo craftare. E tre. Ok. Ottimo. E le mettiamo tutti e tre. Uno. Ottimo. Due. E tre. Ah no cavolo. Non possiamo perché è cresciuto questo affare qua. Che adesso lo facciamo togliere subito. E stendo sotto terra ogni tanto crescono le cose. Oh ecco sono arrivati i mostri. Però il nostro nano sta difendendo bene la nostra casa. Ok. Abbiamo sbloccato il tetto. Però per il momento non ci servirà. Ok. I due letti sono messi. Adesso il terzo potete metterlo qua. Ottimo. Ok. Intanto ha ucciso lo schetro. Però vedo che ne stanno già arrivando altri. Ecco sarebbe bene fermarli. No aspetta aspetta. Vabbè ormai ha visto lo schetro. Lo attaccheranno. Volevo già dire di andare a dormire. Vediamo se mi ascolta. No ha scivolato. No povero. Forza nani. Per moria. Scusate ma sono un fan spiegatato per il signore degli anelli. E a volte mi verrà impossibile non fare dei riferimenti. Costruiremo Erebor. Ok. Ecco allora è arrivato anche un fantasma. I fantasmi sono praticamente innocui. Però rompono le palle. Perché praticamente loro arrivano qui. E buttano via a caso alcuni oggetti che abbiamo lì in dispensa. Ovviamente poi potremo andare a prenderli. Però se sono lontani dalla nostra dispensa non potremo craftare. Ok. Adesso diciamo ai nani di andare a dormire. Tutti e tre. Selezionandoli. Chiudiamo la nostra porta. E per il primo gameplay di questo fantastico gioco ragazzi. Abbiamo concluso qua. Vi ringrazio di aver visto questo video. E alla prossima ragazzi. Ciao.